Ciao a tutti cari amici e amici del signor dello scorpione, ben ritrovati in mia compagnia siamo pronti per conoscere le vostre previsioni per la settimana che va dal lunedì 18 a domenica 24 luglio 2022. Vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra per non perdere i prossimi video ed aggiornamenti futuri. Vi ricordo inoltre che se volete un consulto privato potete farmi contattandomi in privato ok? Non lasciatemi commenti qui sotto per consulti privati e personalizzati ci sono altre forme di invio di messaggi ok? Comunque trovate qui sotto tutto nei box informazioni Vi aspetto anche sul mio profilo di tiktok e instagram iltago man Benissimo cari amici del signor dello scorpione andiamo a capire le vostre energie partendo dal primo messaggio attraverso la prima carta Ok abbiamo la carta fine di un ciclo rottura Carta numero 13 Beh qua c'è scritto V and la fine Quindi siete di fronte a un punto di rottura romperete una situazione romperete questa barriera questo muro e ci sarà la fine di un ciclo la fine di un qualcosa che vi può collegare a un qualsiasi tipo di rapporto amoroso amicizia familiare o anche dinamiche da puntista lavorative e economiche qui c'è la fine c'è un qualcosa che sta mutando quindi per mutare quella cosa deve prima finire per poi comunque rinascere a nuova vita Dovete anche un po' saper abbattere questo muro questa barriera ostacolante e secondo me qui potreste farcela Quindi c'è comunque una rottura di un qualcosa anche la rottura di un vostro equilibrio ma andiamo a capire meglio Abbiamo la carta del 3 di coppe Ok Allora qui cari amici potrebbe essere anche la fine di una relazione extra Cioè se voi avete capito che volete stare con la persona a cui state pensando e non con l'altra quindi avevate fino a questo punto in ballo un rapporto extra durante questa settimana o comunque nel breve periodo capirete che dovete rompere o con l'una o con l'altra persona Ok quindi questo è il primo messaggio Ok Ora Attenzione perché in alcuni casi non per tutti potrebbe esserci proprio la rottura della vostra complicità e della vostra armonia di coppia familiare o di amicizia C'è un qualcosa che ahimè farà un po' barcollare i vostri equilibri dell'equilibrio della vostra relazione o comunque di un rapporto qualunque esso sia Ok Perché vi ricordo le carte vanno collegate tra di loro Ok Ma vediamo un altro messaggio con l'oracolo della vita o l'oracolo dei pensieri Un progetto lasciato in sospeso viene ripreso in mano Se non ricordo male questa carta è uscita anche per la settimana antecedente Quindi qui la carta è molto chiara Un progetto o una relazione che era lasciata così in stand by Verrà ripresa in mano Quindi qui diciamo non c'è ulteriore cosa da dire o da approfondire La carta comunque è molto molto chiara Ok Potrebbe essere anche un rapporto che avevate iniziato Ok Con una nuova persona Ma vi renderete conto che voi amate ancora la persona del passato Ok Oppure un progetto che avevate lasciato in stand by Che sicuramente qui potreste riprendere in mano Un progetto creativo o lavorativo Ancora qualcosa che vi colleghi alla sfera economica dei soldi Ok Andiamo avanti con l'oracolo delle sfere della vita Nella sfera generale stress Quindi alcuni di voi dovranno affrontare durante questa settimana o durante il breve periodo Un appunto momento di forte stress psicofisico o emozionale Anche perché qui siamo di fronte a una sfera generale Quindi avete bisogno un attimino di fermarvi E questo stress può essere dovuto a una situazione che state portando avanti Anche da diverso tempo, settimane, mesi o anni Che però vi sta dando molte preoccupazioni Quindi qual è la modalità per ridurre o per appunto E togliere del tutto della vostra vita questo stress è farla finita No ovviamente no farà finita Non prendetemi per le lettere Nel senso far finire quella situazione che vi sta generando stress Ok? Mi raccomando Quindi qua comunque c'è la fine La rottura di un qualcosa Anche la rottura di un qualcosa di rigido per voi Mi raccomando Benissimo cari amici Anche queste le vostre previsioni Vi aspetto sempre qui sul Tarot Man Ciao a tutti Alla prossima Alla prossima